Comandante, il capitano Apollo riferisce che il carburante è assicurato. Bene. Possiamo mandare le cisterne e richiamare caccia. Falli riarmare immediatamente. Dalla base siloniana ci lanceranno tutte le unità che hanno. Un momento, non stiamo dirigendo verso la Galactica, ma verso la Pegasus. Ordini. Ordini di chi? Miei. Emergenza medica, capitano, e la Pegasus è la nave più vicina. Siamo pronti a planare. Autorizza? Certo. Emergenza medica a bordo. Ripeto, emergenza medica a bordo. Signore, riceviamo segnali di molte unità nemiche in avvicinamento. Voglio le coordinate di intercettazione. Ma attaccarli non è un rischio. Voglio solo intercettarli, passare tra di loro. Tra di loro? Sì, passare attraverso le loro unità fino alla base di Baltar. Sì, signore. Così, quando Baltar si accorgerà che lo stai attaccando, richiamerà tutte le sue unità. Ottimo piano se funziona. I miei piani funzionano sempre. Cosa fai a bordo della Pegasus? La tua era la base stellare più vicina sulla quale rientrare con i feriti. È andata male laggiù? Bogiai è ferito, ma tua figlia e Cassiopea stanno bene. Mia figlia e Cassiopea? Erano con te nella missione? Tale padre, tale figlia, signore. Beh, comunque, congratulazioni. La missione è stata un successo. Non sono riusciti a lanciare un'unità e noi non ne abbiamo persa nessuna. Come sta Bogiai? È stato ferito gravemente, signore. Credevo che dovessimo fare azione di disturbo e non attaccare Baltar di fronte. Strategia, capitano, strategia. Dobbiamo muoverci se vogliamo intercettare Baltar lontano da Gomorra. Se vuoi rientrare sulla Galactica, devi fare presto. Le rampe di lancio della Galactica sono fuori uso. Quasi tutte le unità della mia squadriglia sono qui sulla Pegasus. Spero ti renda conto di quante saranno le nostre perdite in uno scontro frontale con i Siloniani. Sono disposto ad accettare solo volontari. I miei uomini non sono diversi dai tuoi. Anche loro ti ammirano infinitamente. So come vincere una battaglia. Dimmi che non è vero. Attaccare tra i basi stellari. È vero. Ma quello è matto. Un po'. È questo che lo mette in vantaggio. A chi altro potrebbe venire in mente? Un rapporto dall'unità operativa. Una sola base stellare è stata mandata ad intercettarci. Distruggila. Poi continua. Senza perdere altro tempo. Al vostro comando. Cassiopea. Shiba. Shiba. Aspetta, Shiba. Ti prego. Scusa, non ho tempo. Voglio che prendi Bojedi e lo riporti alla sua flotta. Io volevo dirti una cosa. A proposito di quella donna che sembra essere così importante per te. Oggi l'ho vista salvare una vita mettendo a repentaglio la propria. Dovrò rivedere il mio giudizio. Ti voglio bene, piccola. E voglio rivederti. E voglio rivedere il mio giudizio.